Sindaco, allora come nasce questa iniziativa di realizzare uno spettacolo al Teatro Traiano che è obbligatoriamente per la questione Covid naturalmente che è ancora imperversa e questi obblighi che non possono consentire la presenza del pubblico allora di comunque offrire alla collettività, a coloro che vorranno naturalmente seguirlo, di mandarlo in video? Beh, posso dire che abbiamo copiato, è proprio il caso di dirlo, perché nel corso di una conversazione, durante una videoconferenza, ho avuto modo di rapportarmi con il sindaco di Treviso che è stato un po' colui che ha avuto l'idea, nel senso che nell'ambito della presentazione del cartellone del teatro, della sua città, ha ritenuto di fare lo stesso quello che era in programma, cioè la prima del cartellone stesso, quindi una rappresentazione teatrale, pagando gli artisti, quindi proponendo quello che si era programmato e mettendo il tutto in streaming. Posso dire che abbiamo mutuato questa idea, io l'ho raccolta e chiaramente l'ho prospettata agli uffici, all'assessore alla cultura e si è realizzata questa idea in collaborazione con la TCL, che non posso altro che ringraziare perché comunque è un evento importante, è qualcosa nella quale non siamo arrivati proprio primi, nell'Italia, nel Lazio sicuramente sì, però ripeto, nasce da questa idea del collega di Treviso che effettivamente ha voluto dare un segnale, che noi riprendiamo e facciamo nostro, di grande attenzione per quanto riguarda il teatro, per quanto riguarda gli artisti, per quanto riguarda le maestranze, per quanto riguarda tutto quello che è l'indotto che è collegato alla cultura, alle attività teatrali. E credo che questa sia una cosa davvero bella, davvero importante, che qualifica la nostra città e credo che possa essere anche un punto di riferimento per tante altre città che possono seguire questa iniziativa. Di qui a breve ce ne sarà anche un'altra, anche se realizzata di concerto con l'assessorato alla cultura e credo che anche essa sarà molto gradita perché proprio ha la finalità di dare un segnale per quanto riguarda la cultura. La cultura è fondamentale, è importante, è importante che sia un punto di riferimento per tutti noi, è importante immaginare che vada avanti, nonostante i teatri siano chiusi, per quello che dicevi tu, per le problematiche che conosciamo, per un DPCM che ha escluso di fatto la possibilità di assistere a spettacoli e condurre una quotidianità che ci approcciava la cultura in maniera diretta attraverso uno spettacolo che potevamo vedere dal vivo. Questo oggi non si può fare, ma non significa che si debba interrompere. Quindi grazie a tutti, alla TCL che ci ha consentito e grazie anche al Sindaco di Treviso che ci ha dato questa bella idea che abbiamo posto in essere attraverso il nostro assessorato. Grazie a tutti.